Buongiorno l'orchidea di Manosola, l'orchidea di medicina per l'anima. Il libro è Pensiere notturne in ordine sparso. Dove ci sono le mie storie che vi racconto di tante, che vi piacciono. Adesso stiamo preparando anche il secondo volume con nuove storie. Comunque questa qui costa 7 euro, lo trovate qui all'orchidea oppure su Amazon. Mi sembra che sono 120 pagine. Oggi voglio parlare di tre orchidee particolari che fanno parte delle plurotelidine. Sono molto parenti del genere Masdevallia. Queste due sono Masdevallia, questa è la Dracola. Ma questa è la Masdevallia igna. Come vedete ha radici aeree, però è una pianta terrestre. Direttamente vive sul muschio, su quelle cose lì per terra. È veramente una lava fiorifra. Guardate quanti boccioli. Questa è una pianta grande grande, ma ne abbiamo di più piccole. Ed è veramente spettacolare. Guardate il fiore, che bello. Ma guardate questa qui. Questa io la trovo fantastica. Questa è un libido. Questa è la Masdevallia Red Magic, che ha dei fiori. Se guardate i fiori, sono veramente essenziali. C'è un disegno essenziale, ma bellissimi. Guardate che profondità di fiori che ha di colore. Bellissima. Questo è un libido. Allora, sono due Masdevallie che è abbastanza facile da coltivare, non hanno grandi problemi. Soprattutto la Red Magic è un libido. Essendo libido è ancora più facile delle specie botaniche, mentre la igna è una botanica. Generalmente le Masdevallie sono piante molto piccole e queste sono due che diventano grandi. Ce n'è anche di grandi. Questa invece è una molto molto particolare. Cominciano a fare i boccioli adesso, perché è finissimo in primavera. Questa è la Dracula Lotax e ha tre caratteristiche che la rendono abbastanza diversa da altre dracule. Perché le dracule sono delle orchidee inquietanti. Hanno dei fiori che, apposta il nome, ma veramente il fiore è inquietante. Sono quelle che chiamano le orchidee scimmia. C'è uno che vede una dracula così e poi di notte, cioè, mi viene in mente quando gli incobi di notte, quando aveva la febbre alta, così, anche una roba del genere. Questa no. Questa ha dei fiori che è una faccina che sorride, che mette allegria. È decisamente diversa dalle altre. Poi un'altra caratteristica che è diversa dalle altre, che tutte le dracule sono proprio piante da fresco, che non sopportano le nostre estate, altissima umidità. Questa invece è una pianta che si è adatta anche a temperato. E poi un'altra caratteristica è che la maggior parte dei dracoli fanno i fiori che vanno giù, che vanno giù verso il basso, mentre questa le fanno una mette in alto. Vi mettono una foto del fiore fiorito in copertino, così vedete come è bella. È veramente un fiore che, quando uno lo vede, gli viene da ridere. Con le altre, quando vede le altre dracula, quando le vede fa un po' mamma mia. Un'altra cosa. Iscrivetevi al canale Orchideria di Murosola, che vi dico a tutti, devi fare in modo che si iscriva tanta gente e tanti iscritti. Va bene, oggi voglio presentarvi queste tre orchidee qua, che sono tre veramente, tre orchidee, tre piante, tre orchidee veramente stupende. La Mastevallia è qui, la Red Maginotro. Guardate perché è un fiore bellissimo. Vabbè, sono tutte belle comunque. Dai, a domani. Grazie a tutti. Grazie.